Io volevo parlare di questo ultimo aspetto che ha giocato un amico, c'è il problema dell'informazione ossea, faccio degli esempi, io ho fatto delle denunce sul rivolamento di amianto in piedi nell'acqua d'oste, già due anni fa fece la denuncia, poi c'è stato un bel incendio e il problema è stato risolto. Adesso ho trovato un altro amianto che ha solito l'acqua Ethernet e compagnia, ho fatto denunce alla rivolta dell'acqua, parli almeno su internet sulla posta e tonia, ho visto che hanno ricevuto, almeno hanno aperto la posta, che quando uno spedisce gli avviso di lettura, almeno viso di lettura. Però, tuttora, niente, perché la precedente denuncia al servizio Giazzini, ai vigili, alla circostazione, però, ho fatto, diciamo, un appello che era tra i 10 documentando con fotografia e compagnia, mi hanno detto che la questione era il valore della direzione che doveva valutare se la cosa era in sé stato o no. ho fatto lettere alla gazzetta dell'Israele, denunciando anche un altro problema che voglio dire. Cioè, sulla gazzetta, spesso ci sono desiderette di gente indigente. Qua non c'è più democrazia, non c'è più partecipazione perché la circostazione è commissariata. Allora, la domanda che faccio è che prima che c'era il cosiddetto consiglio eletto c'è la democrazia e c'è la partecipazione e c'è l'informazione. No. Diciamo, adesso è uguale, se anzi, in questo senso invito qui l'associazione e tutti noi a mettere questo come un problema prioritario, il problema dell'informazione, perché quelli che prima le dicavano in consiglio dopo cinque minuti, se non ti d'accordo, era molto fatto. Tutto quello è successo, nessuno dei 25 consiglieri contro delle cinque stelle hanno fatto mai una denuncia o almeno un sospetto di quello che succederà. Certo. Tutti d'accordo, tutti li consigliano dopo che sta ragionando le due mesi. Questo è il problema prioritario. Quindi il problema dell'informazione è un problema importantissimo. Questo significa che io applico, diciamo, le lezioni a breve termine. Anzi, io dico ben vengono i 18 mesi, a meno che, a fatto che, diciamo, questi 18 mesi siano utilizzati a andare a sprucciare tutti gli altri amministrativi, perché non basta dire che non sono stati fatte, diciamo, gli appalti, diciamo, secondari, appalti pubblici, ma è stato rinnovato, diciamo, le convenzioni, e come adesso, dietro la denuncia dell'assessore ai rapporti, vengono a lavorare, come andavano le cose, perché le RSU, non ho voluto sopportarli. Diciamo, non basta dire che non sono state fatte legare a pallo, bisogna fare, diciamo, il passo successivo, andare a vedere questi appalti come lo stai applicati. Cioè, un esempio che io, tra quei anni, l'assistenza domiciliare agli anziani e agli appalti non si è stata fatta più il bando. Cioè, i stessi finanziamenti, c'era un miliardo finanziamenti invidando al gruppo per dire che ci abbiamo allargato l'attenzione anche adesso con il gesto che arriva. Sì, ma sempre un miliardo effetti. Allora, diciamo, il servizio è sempre lo stesso. Grazie a tutti.